Il parco di Maieutica è un parco naturale dove noi educatori insieme ai nostri ragazzi disabili facciamo manutenzione di aree verdi. Questa raccolta fondi ci serve per comprare delle strutture, dei giochi per i nostri ragazzi disabili, quindi strutture che sono inclusive e danno la possibilità ai nostri ragazzi di poterne usufruire. Le attività che facciamo sono le attività appunto di giardinaggio dedicate agli animali perché abbiamo le caprette e le asinelle e di serra. Siamo continuamente appunto circondati della natura e questo ci permette appunto di creare dei progetti che hanno a che fare con il benessere delle persone e con la loro qualità di vita. In quest'ottica abbiamo deciso di potenziare il parco aggiungendoci delle attrezzature. Il nostro centro è già un centro comunque aperto, ci sono famiglie con bambini che vengono perché abbiamo degli animali e quindi darebbe ancora più visibilità e possibilità a altre persone anche con disabilità di venire all'interno del nostro centro. Grazie per la visione!